La pelle è l'organo più esteso del nostro corpo e prendercene cura fa parte della nostra routine quotidiana. Impariamo a farlo prestando attenzione all'ambiente. Ecco i nostri consigli per una beauty routine sostenibile. Prima di tutto non sprecare acqua. Non far scorrere l'acqua a vuoto e preferisci docce brevi al bagno. Scegli prodotti riutilizzabili. Salviettine struccanti, dischetti applicatori, rasoi usa e getta finiscono per riempire le nostre pattumiere. Usa prodotti lavabili e biodegradabili. Utilizza meno prodotti. Chiediti sempre, è davvero necessario? Mostrare rughe ed imperfezioni può essere cool. Leggi le etichette dei cosmetici. Gli ingredienti dovrebbero essere ottenuti attraverso un processo rispettoso dell'ambiente, degli animali e delle condizioni dei lavoratori. Evita confezioni di plastica. Scegli sempre cosmetici con imballaggi ecosostenibili e riciclabili e prediligi shampoo, balsami e gel doccia solidi. Ricarica i tuoi prodotti. Invece di ricomprare il prodotto, acquista le ricariche che ti permettono di rifornire nuovamente i dispenser che hai in casa. Realizza in casa i tuoi cosmetici. Prepararti le maschere di bellezza in casa è il modo migliore per ridurre gli sprechi. Prenditi cura della tua bellezza con un po' di attenzione. Renderai più bello anche il mondo in cui vivi.